Ciao ragazzi che è Blast con questa musica epica Direi di cominciare questa parte legata alla partita contro Zanark Domain Che sarà già in realtà la seconda volta che proveremo a batterla Con l'idea però speriamo che l'avversario faccia finire la partita Insomma voglio vedere effettivamente chi è più forte La mia squadra o quella di Zanark? Io un'idea ce l'ho Però Zanark a quanto pare ancora vuole avere delle certezze Forse devo mettere Feiyu e Sakamoto Non ho ben capito In ogni caso togliamo via Wanli e via De eventualmente Poi dovessi sbagliare tanto Gli altri già ce l'avevo e sì Devo mettere anche Viktor, Ryoma e Sakamoto in campo Perché sono un po' i protagonisti di questa parte In particolare Viktor e Ryoma Sakamoto l'avevo inserito in campo A me va bene che sia anche qui È scarsissimo Non capisco perché non abbia la tecnica speciale numero uno Ha la seconda ma non la numero uno Boh Mi si scombina sempre tutto Via Luke In difesa alla fine è battuta a Gabi Centrale e tutto il resto non importa Cominciamo Sono molto stanco in realtà Per me che sto registrando è quasi l'una Però io ho una scaletta mentale Purtroppo la devo seguire O per fortuna insomma Sono molto organizzato Oggi Ora è il momento che devo registrare questa parte Che non so quanto durerà Perché Vista la mia stanchezza L'interesse personale sarebbe quello di battere questa squadra Di sfidarla Andare avanti con la storia Che alla fine è L'obiettivo principale Allora se Siamo pronti Forse cominciamo Se i convenevoli Sono finiti Perché come al solito Prima di ogni partita C'è da dire Sei più forte te No Sono più forte io Io vincerò Tu vincerai È sempre la stessa storia Poi alla fine contano i fatti Con ben sette livelli di differenza Zander Mane Prova a battere la Raymond Non ho detto che non ci riesca Sarebbe un fail clamoroso Ma accetterei la sconfitta Più che una vittoria 10 a 0 Accetterei la sconfitta Con maggior interesse quasi Perché a quel punto Anche voi Penso farebbe piacere Dovrei andermi ad allenare E allenare vuol dire Allungare il brodo di questa serie Però io Ho l'impressione Magari sbaglio Da Da veterano Per esperienza Che In qualche modo Ce la faremo Però insomma Non Non prendiamo vittoria Insomma non cantiamo Fin da subito La disfatta avversaria Proviamo a giocarcela Fin dall'inizio Ora non so se l'avversario Conta già Come portiere Invincibile Ma Non in caso Noi ecco Ci proviamo No non ha l'invincibilità Quindi io andrei subito Sì attivo il mix Ma sbagliando Perché dovevo attivare Beh però sai cosa Come va Baylong è morto Cazzo Non l'ho ricaricato Merda Vabbè Giochiamo così Giochiamo con il mix Di Baylong Non tiriamo con Victor Cambiamo strategia A sto punto Attivano ancora lo spirito Lo attivo pure io Così siamo alla pari Io attiverei Il viverna bianca Che di fatto è il suo Eca attiva anche lui Il suo titano gigante Bellissimo Già l'ho detto Probabilmente anche a livello di colori È molto bello Sia Eca in sé Che Che lo spirito Victor in fuorigioco Questo non me l'aspettavo Onestamente Ma Altrettanto Aspettato Invece è Che Baylong Prende la palla Facilmente Visto che Immaginavo Lui ha Spirito E miximax Penso di passare Non è però sicuro Ok Non di troppo Ma quanto basta E a questo punto Tiriamo davanti all'avversario È la prima volta che provo afflato bianco Quindi voglio farvelo vedere tra l'altro E piccolo aneddoto Io fino a poco tempo fa Parliamo di Almeno un anno fa L'ho sempre chiamato Affilato bianco Invece poi ho scoperto A versione live Di ormai ripeto Probabilmente 2021 Che è afflato E difatti è anche un termine italiano Che non conoscevo Esiste Solo che io ho sempre pensato Che fosse affilato Allora qui potrebbe pararmela Perché in virtù Esatto Del valore che aveva fatto Contro Victor In una parita precedente Me l'aveva parato già al tempo Però Baylong Col miximax E lo spirito È pur sempre lui Ah Io purtroppo non ho L'armatura E quindi non posso Permettermi un buon tiro Che comunque con il critico Non va male Se l'avversario non facesse la mossa E invece la fa Il che comunque Mi fa piacere Che la faccia Che la faccia così Lui perde PSG E questo può solo Che andare a mio vantaggio Diciamo Nella sfortuna Di non fare gol Perdiamo il miximax Perdiamo lo spirito Baylong è già morto D'accordo Ma ha fatto la sua Grande figura Ovvero quello di Prendere Per il culo Il portiere avversario Insomma Forse si ha preso per il culo lui Ma letteralmente In realtà È grazie a noi Se lui ora non può fare più niente Riccardo Victor Fei Io devo mettere Riccardo Molto più avanti Ma sbaglio Sempre La strategia iniziale A questo punto No è troppo indietro Quindi non lo attivo Attivo quello di JP Che non si sa mai Come sempre Tra l'altro Lì davanti c'è Zanark Un certo Valonic Che La fame per il gol La possiede sempre Ed è quindi necessario Che Che sia sempre marcato Ok Victor non ha nulla Io a questo punto Attivo lo spirito guerriero Che diventerà presto armatura O forse tiriamo subito Con lo spirito La facile pure qua Non importa È stordito È stordito Questo è molto buono È buonissimo È buonissima Questa storia Fino ad ora Ma ora A meno che faccia critico Durante lo stordimento Cosa impossibile Prende gol Ma ha giocato bene Sono stati 20 minuti di fuoco Per lui Perché non ho fatto altro Che tirare E questo mi fa capire Quanto io sia forte in attacco Non io Blast Ma la squadra della Remo Si è costruita molto forte In difesa Ha sempre dei problemi Evidenti Da quando c'è Gabi Sono un po' diminuiti Ma ci sono lo stesso Più che altro In mosse difensive In scivolate Ecco vedete In scivolata Con lo spirito Victor comunque Non riesce a dare il meglio Se attiva uno spirito È probabile Che sia quello di Di Zanark Quindi anch'io Corro ai ripari La palla Non la deve prendere Perché se la prende È probabile Che segna Sti che c'è JP Comunque In ottima forma Con un spirito E E Miximax Però Bisogna sempre stare attenti Ora In questo caso Sakamoto La palla ovviamente La vede col binocolo Ma c'è Gabi Gabi invece La tecnica c'è là E potrebbe essere Interessante Contro Chita Che la palla Gli viene rubata Molto bene Non male che posso contare Su Gabriel Garcia Unico difensore Io potrei giocare Da solo con lui Perché attualmente Veramente Nessun altro fa altro A questo punto La palla Gli la do un po' A Victor Sbagliando Poi però Ci recuperiamo In questo modo Bellissimo Bellissimo Gesto tecnico Di Victor Che dà la palla indietro E tra l'altro Arriva anche a A portarsi avanti Senza andare in fuorigioco E prendere il pallone E a questo punto Io attivo l'armatura Perché ho l'impressione Che Eka Adesso una mossa La può fare Poi non lo so Forse no in realtà Ma io voglio essere sicuro Lui non è più stordito Io faccio un valore Un po' basso Paradossalmente Già l'ho detto Già l'ho detto ma Faccio una mossa Di spirito più forte In pettacolo d'armatura Lui fa il critico Me la para Bella Bella parata Ma Speravo convinto Di riprendere In controbattuta E comunque Ora Tralasciando i tanti tiri fatti Io penso Che aveva fatto Almeno cinque tiri In difesa Siamo scarsi La squadra Avversaria Interessante Eka in particolare Non so È boostato O è portiere Oppure Banalmente È forte Dobbiamo dare merito Anche alla sua forza Però bisogna anche dire Che io sto giocando Un po' col freno a mano Perché La squadra Potevo gestirla meglio A partire da Riccardo Metterlo in attacco Perché se avessi avuto Riccardo in attacco Miximax Armatura Ciao Eka Perlomeno a questo tiro Devo stare attento Ecco A lui Devo stare attento Esattamente lui Metti un attimo in pausa Per favore Perché devo fare Sta mossa Che non so se basterà In effetti Eh Non lo so Io provo ad attivare Anche lo spirito di Gabby Ma Secondo me non va A parte che devo mettere L'armatura Lol Vabbè ho sbagliato Ho fatto un fail Allucinante Devo sperare Qua in goal Di punto uno Cosa che non andrà mai Di un bel po' Devo sperare in Gabby Che corra Bene Bene Io penso che Zanac Poteva tirare Non ha l'armatura Gabby Cazzo è vero Non ha l'armatura E Infatti mi sono trovato Un chicco di mais Nei capelli Possiamo stare Passa Passa Brunini De ma di quanto Perché lui è Anche il Miximax Gabby potentissimo In difesa Potentissimo È quello che fa Valore più alto Della mia squadra Ok Gestiamo il pallone Che paura Abbiamo avuto Una paura Non indifferente Zanac Per quanto L'abbia preso Un po' per il culo Nelle scorse parti Ma Devo stare attento È l'unico giocatore Come bisogna stare attenti 5 tiri Un gol 5 tiri Me ne ha parati 4 Di tecniche speciali Tra l'altro Bene Okita Sembra essere finito In realtà Finito mentalmente Perché è risucchiato Un po' anche Dalla forza Di Mentale Fisica Di Zanac E poi Anche Dei suoi problemi Che aveva prima Che giocando a calcio Hanno Aumentato Ecco La sua condizione Non Non tra le migliori E qui abbiamo Kondo Che ricorda anche il passato Con Okita stesso Dove per Kondo Il Giappone È la cosa più importante Mentre La vita di Soji Assolutamente no Serve Per costruire Il Giappone Secondo Kondo Anche a costo Dalla vita stessa Di Okita E di chi come lui Eseguiamo il Miximax Tra Okita e Victor Eh sì Davide Spunta fuori dalla taschina Stavolta Con qualcosa di serio E qua Wonderbot Non può fare altro Che accettare Il Miximax Tra Victor E Soji Okita Bello È l'unico giocatore Però secondo me Che assomiglia più alla sua aura Che al giocatore in sé Cioè se ci pensate A vedere il Miximax Victor Okita Che lo chiamiamo Vikita Così Un nome un po' strano In realtà Assomiglia molto di più A Okita Cioè alla sua aura Che al giocatore in sé Tutti gli altri Più o meno Hanno più particolarità Sì ma Sono più similari Sempre al giocatore in campo Riccardo Con Nobunaga È più simile a Riccardo Quando mi riguarda JP Mixi Lubei È più simile Sempre a JP E invece A mio parere Victor Okonokita Cambia drasticamente E ora qui La palla La prenderemo anche facile Molto probabile Abbiamo anche da riempire La barra d'avanzamento Secondo me il gioco Non si aspettava Che io facessi gol Quindi pensa che io debba Fare ancora qualcosa Io non evoco niente Non mi serve Potevo evocare quello di Victor Ma non mi aspettavo Che questa partita Attivasse già il Miximax E quindi L'avevo già utilizzato Eh ma qui da Zanne C'ha invece lo spirito Non ce l'avevo un attimo qua Eh io in difesa sono scarso Molto scarso Devo provarci però con Victor Con Arion Io a questo punto Faccio una mossa Metto Riccardo molto indietro E vado avanti con Gabi Così eventualmente Sarà Riccardo poi a Ad aiutarci con Mix e spirito Tanto vediamo se Arion Magicamente prendesse la palla Ok cosa impossibile Neppure con il critico Ok bello Gabi fa quello che ho chiesto Se non prende la palla lui A questo punto attivo immediatamente Mix e spirito di Riccardo Vediamo Tra il Brunilde e Cardinale Passa Chiede i due Passa il Brunilde Passa il Brunilde Il finale delle Valkyrie Con Gabi Strato serico Devo sempre far fare Altro valore zero All'avversario Sakamoto Fei E a questo punto Kita Che probabilmente Ha una strada spianata Un'autostrada Davanti a Eka Che ha fatto Un grande primo tempo Ma che qua Non può fare altro Che probabilmente Inchinarsi Alla forza di questo Mix Che minimo Un 300 Dovrebbe farlo È risicato Comunque Risicato Ma Lui cosa può fare Ha ancora tecniche Perché Sì L'ha fatto Tecniche con lo spirito Tecniche con l'armatura Ha perso l'armatura Ma comunque Tecniche con solo Mix e Max E ora Tecniche da solo Impressionante Parita mostruosa Di questo portiere Di Eka Che Chissà Magari Potrebbe avere Anche a questo punto Anche un ruolo Nella squadra Da quanto Mi abbia impressionato Ma sì Dai Sai cosa ti dico Io me lo segno Mi ricordo So che un portiere L'avevo già segnato Però Questa portiere Mi ha Già due portieri Silent E Emilia Od Però io mi segno Pure Eka Che è della Danach Domain Perché Mi ha impressionato Me lo metto già Anche In questo mio blocco note Come Portiere titolare Poi per carità Sicuramente Una serie di coincidenze Astrali E per questo che Eka è così forte Ok Magari In realtà Non lo è Però capite Per me Da Zoom Eleven È un gioco Che va anche di ricordi Va anche di estetica Va di interessi Di gusti personali E quindi Se io devo ricordare Un portiere Durante la storia Che mi ha dato dei problemi È Eka E cavolo Tanti problemi Invece Gabby È una garanzia 3 su 3 O forse 4 su 4 Ogni difesa Lui L'ha fatta Con Con interesse Con piacere E con successo Zanark Anche lui Incomincia A tuttire Un po' I colpi Fisici Di quella che è la sua condizione Ma non si arrende Ancora una volta Carica la sua aura Io salto la scena Perché adesso Non ho interesse È una cosa Che è già successo E intanto Succede quello Che era prevedibile Ovvero Un altro Miximax Ryoma Mix Ryoma Sakamoto Sakamoto Sempre molto divertito Ma questo giro C'è linea di onda E c'è consensualità E quindi Eccolo qua Che pure in questo caso A mio parere Ricorda più Ryoma Nishiki Che Sakamoto Bene Ennesimo Miximax Non posso far altro Che essere contento Perché è un ennesimo Aiuto Un ennesimo Tassello Un altro elemento Che ci potrà solo Tocca aiutare Tra l'altro Corrente nera Ottima mossa Seppur in Miximax Non andrebbe mai utilizzata Come mossa di aura Ennesima barra Da dover compiere Qui Ryoma Come fotte l'avversario Incredibilmente Anche in velocità A questo punto Proviamo la corrente nera La abbiamo E direi che Ne andare in porta Ti dirò di più Io attivo Anche lo spirito Giusto perché Tanto questa parte Molto probabilmente La dedicarò solamente Alla partita E poi eventuali dialoghi Di circostanza Ryoma Fortissimo Io attivo anche lo spirito Perché questa parte Comunque Me la sono giocata O meglio Ho trovato Un po' di difficoltà Il portiere Non me l'aspettavo Ovviamente Ripeto Ha avuto Giusto Insomma Non è che Io sono stato scarso È che lui Ha avuto Più possibilità di parata E l'ha sfruttata Tutte molto bene Zanark Ho avuto molta Molta paura Ho dovuto giocarmela bene Per evitare che lui Prendesse il pallone E arrivasse in porta E poi Ecco i miei tiri Andati a vuoto Ho fatto perdere un po' di tempo Ma Un po' perché Eka Le ha sfruttate bene Tutte E ancora Ah no Che cazzo è questo Oddio Dicevo Ma come è possibile Che faccia ancora tecniche Mi ricordavo L'aveste finita È entrato il portiere Di riserva Addirittura Ma Contro Rioma Non penso sia script Ma difficilmente Il portiere poteva pararmelo Perché Mix E Anche spirito guerri Alla fine gli avevo messo Non può fare l'armatura Ma È come se potesse Per la forza che ha E ora Si tratterebbe Di prendere il pallone Vediamo se Gabby può nuovamente farcela Sarebbe Incredibile Non ha toccato palla Da Zan Non ha Toccato palla Forse ora Potrebbe essere La prima volta In cui lo fa Perché Vediamo Incredibile Gabby Garcia La palla L'ha presa Sempre MVP Non voglio dare Il primo premio Di questa partita A Victor Perché Per quanto abbia Senso due gol È fondamentale L'avversario Eka Ma il mio Gabby Assolutamente Gabby ha fatto L'impossibile Ogni pallone In difesa Lo ha preso E poi ricordo Anche un ottimo Pallone di Goldie Che l'ha preso In contrasto Indiretto Proprio contro Zanark Quindi fondamentale Pure quel pallone Ryoma Può usare l'armatura Un po' inaspettato Ma wow Col suo Musashi A questo punto Sarà estremamente Difficile Che i giocatori Mi possano prendere E quindi Molto probabilmente Questa partita Terminerà Dilagando Nel punteggio Immeritato Per l'avversario Per lo meno Il primo tempo Non mi aspettavo Ecco di arrivare A tale risultato Poi nel secondo Ma A questo punto Ci stiamo divertendo Mi sto divertendo Voglio vincere La partita Il più possibile Perché questa partita Ha meritato Di essere giocata Avevo poche Veramente speranze Ma ora capite il titolo Che ho messo Sicuramente Inerente Al bello Di questa partita Mi è piaciuta Probabilmente La miglior partita Anzi Senta probabilmente La miglior partita Da me giocata Per interesse Perché ripeto Un conto è Essere forti Vincere 10 a 0 Far vedere All'avversario La CPU Di fatto che Noi siamo più forti Un conto è giocarsela E qui sarebbe Da applausi Se Gabby Ancora riuscisse Peccato che Il Miximax Però L'abbia già utilizzato Gli altri Zanark Ancora una volta È l'unico Che può farlo Utilizza due volte Il Miximax Non si potrebbe Ovviamente Gabby ci sei ancora Batti un colpo C'è ancora Ma quanto gli dura Suo spirito Quanto gli dura Vediamo se ce la fa ancora Brunilde Conto cardinale Per la quinta volta E a sto giro Passa cardinale Gabby non ce la fa più Ma ci sta Posso capire La sua frustrazione Ma rimani L'NVP Assolutamente Io lo devo sperare Con Goldi Ma io qui Ho paura Di prendere gol A sto giro Solo il Mediterraneo Ha anche un gol Dalla bandiera Allora Si tira da Zan Non fa gol Si tira da Zan Che invece i gol Lo fanno Tira da Zan Che comunque Ha una ghiotta Possibilità Di riscattarsi Ecco dopo Tutte le cantonate Prese da Gabby Ali di Falco E il valore Non è basso Il valore è competitivo Per lo meno Per questo stato di storia JP Non lo so Armature mix Non mi ricordo Quanto riesco a fare Voglio vedere Sono curioso Se lo parasse Tanta roba Parita impeccabile Anche di JP Per quanto Non abbia fatto mai nulla Ma ecco Impeccabile nel senso Che la squadra C'è Zanark È stato annientato Non ha avuto Nessun tipo di Di interazione Con il portiere Ed era quello Che doveva accadere Altrimenti Traversato un gol Dov'è Rioma Ah è di qua Peccato Vediamo se riusciamo Comunque Con toccate fuga A passare sull'avversario Purtroppo no Con le tecniche Non siamo molto forti Poi l'avversario Fa una mossa Stabbata Fuoco Contro la mia Che è albero Io sono albero È un pochino difficile Andare in questo caso Contro Siamo Cominciamo Siamo E cominciamo A essere stanchi Sia fisicamente io Come disse in inizio del video Ma sia la squadra Si vede che Perdendo un po' Quel brio Offensivo Ora si ritrova un po' A difendersi Qui Gabby Doveva prendere la palla In contrasto indiretto Invece non ce l'ha fatta Però Io farei un'altra cosa Ora Perché la formazione a guscio La posso fare Eh sì Usiamo la formazione a guscio Nel tentativo di Zanark Di riuscire a segnare Ma io non voglio farlo segnare Perché a questo punto È un discorso fra me e lui Non deve segnare A meno di script Non deve farlo Qui potrei provare Un long run Wow Ci arrivo Ci arriva Sogio Kitta O meglio Victor Solo che mi ricorda Molto Kitta Come già dissi E Sahasra Non potrà fare altro Probabilmente Che prendersi Questo ennesimo gol A meno che si inventa Un critico Io un debole Ma deve sperare Nella fortuna E non è mai La cosa migliore Victor è morto Ma muore con il sorriso Insomma muore A livello energetico 5 a 0 Partita Che se uno guarda Il punteggio Dominata Ma in realtà Ben giocata Ripeto E voglio comunque Nominare MVP Gabby Perché se io Non avessi avuto Quel Gabby In quei 4 momenti Tolto l'ultimo Che era Il quinto Io avrei preso Dei gran tiri Assolutamente Perché Goldie Non riusciva a reggere Ehm Beh Io evoco così A caso Le evocazioni Di Di Arion Non so se potrà servire Forse In contrasto Contro Dazan stesso Vediamo se In traghettoria c'è Non mi ricordo Dove sta in campo Si potenzialmente c'è Quindi Vediamo se Con l'armatura Io E con la tecnica Le sto passate su Dazan Bisogna vedere se lui ha Alla mossa offensiva Non glielo ho ancora mai vista Sembra ha avuto lo spirito Fino all'inizio Non l'ha mai utilizzata Ma quanto pare no Non è una mossa offensiva Detto che va di sfondamento E quindi passo io Vediamo di quanto Col teco l'illusorio Vabbè Quando va a riuscire Va a zero Non ho mai capito il motivo Ma non c'è partito Ovviamente Un bailong invece Qui morto Purtroppo Tra l'altro la palla L'ha presa incredibilmente Morto perché Non so per quale motivo Non ha avuto la possibilità Fin da subito Di Di poter segnare È entrato morto In partita Ora non so se È evoluta la cosa Ma aveva pochi pie E pochi pt Cioè non caricato Boh Non so cosa gli sia successo Probabile Reduce da 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 Presidente sfida Che non l'ho più caricato 5 a 0 Poteva andare di meglio Forse sì Potevo fare giusto uno in più Primo tempo Comunque hanno giocato meglio loro Secondo me Grazie al portiere Eka Ma grazie anche al mio Gabi Assolutamente Bene Ottimo Ottimissima partita Zanark schema Domain nella divisa E anche il pass incendio 2 Ricordiamo la mia squadra È 6 Anzi 7 livelli in meno Ora probabilmente 6 Ma Conta La parita in sé Abbiamo vinto Ora vediamo se Zanark Si rende conto Di quello che Che ha fatto Insomma Del suo Del suo modo di giocare Di vivere Ridaccia il lanatore Ivans Vediamo se La possibilità Ce la dà o meno No Arriva un tizio Il solito tra l'altro Che parlava con Zanark Già nel corso capitolo Che ruba la pie Tra Zanark Che secondo me Ce la voleva dare O comunque Voleva dire Ok Prendete L'altro a me Non mi serve Scompaiono poi I giocatori Strano E niente Devono andare Con la sua promessa Ovviamente Lo Shogun Quindi In base a quello Che gli disse Sakamoto Molto prima Proprio come avevo previsto Aprire il Giappone Era inevitabile Non c'era modo Di restare isolati Ancora per molto Non mi dispiacerebbe Nemmeno sopravvivere A questa epoca E in questo modo Saranno convinti Di averci rovesciato Con le loro mani Vabbè Insomma In ogni caso In teoria Si prova L'apertura del Giappone Che ovviamente Sarà solo Con punto di svolta Per il Giappone stesso Perché rimanere isolati In ogni caso È sempre la cosa peggiore Qualche animazione Qualche Altro frammento Di gameplay Il mattino seguente Con un Sakamoto Che non può essere Altro che contento Io in realtà Il mix con Sakamoto Non l'ho mai apprezzato Né esteticamente Né a livello concettuale Per me Rioma È un attaccante Già forte di per sé In teoria Dovremmo tornare al presente Molto probabilmente Tornandoci Finirà pure il capitolo O di lì a poco Ma mi permetto Di salutarvi Una partita comunque Molto bella Ripeto E ci vediamo Con la prossima parte Ciao ciao